Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come ottenere l'obiettivo Gufo Super Bowl in Fortnite con la stagione 3. Tutto quello che dovete fare è avviare la modalità Party Royal, andare sulla nave qui in alto e utilizzare questo distributore per raccogliere quest'arma e dopodiché sparare a terra 55 volte circa per sbloccare l'obiettivo. Potete sparare solo 10 volte per arma quindi quando l'arma finisce dovete procurarvene altre. È infinito quindi potete richiederne quante ne volete. Fate così 55 volte all'incirca per sbloccare l'obiettivo.